La rincorsa da parte dello svedese, la maglia numero 11, la fischio di tagliamento, parte Ibrahimovic, rete! Il Milan è in vantaggio, cambia il parziale al quinto minuto allo stadio Beazza di Milano, ha segnato il Milan, ha segnato Ibrahimovic, su calcio di rigore, i rossoneri conducono per 1-0. E' partito Ibrahimovic, la posizione regolare.